5 destra 6 in sinistra 3 in destra 3 più lascia per sinistra 5 e 20 destra 3 lunga tieni in sinistra 2 gira in destra 3 lascia in destra 3 lascia per sinistra 6 e 50 al piolo sinistra 6 tieni 20 stop per destra 2 sale 20 in sinistra 4 tieni per tornante destro apre 20 in sinistra 4 tieni per tornante destro apre 20 tornante sinistro 20 per destra 3 corta apre piena 50 stai a sinistra in versione destra occhio interno stai a destra per ritardo a sinistra 3 lunga al palo diventa a sinistra 3 tieni lunga in destra 4 in non tagliare sinistra 3 10 per sinistra 5 in destra 5 per destra 3 in sinistra 3 su dosso sconnesso in destra 2 diventa 5 lunga 2 diventa 5 lunga 10 accenno sinistro 100 alla porta a sinistra 5 in destra 5 alla porta a sinistra 5 in destra 5 in sinistra 5 sacrifica la lunga per molta attenzione freno a destra 3 lunga ritardo al potente 1 10 al fine rail sinistra 2 sporco 20 su dosso sinistra 5 tieni per destra 3 lunga lunga in sinistra 4 in destra 5 al ramo chiude 3 per sinistra 4 tieni 50 sinistra 4 tieni 50 al vuoto sinistra 2 2 per ritardo a poco destra 3 in sinistra 2 lunga lunga tieni in destra 2 lunga sporco scivola destra 2 sporco scivola 20 alla casa sinistra 3 più lunga tieni occhio interno 20 per destra 5 20 sinistra 5 100 molta attenzione stai a sinistra su dosso destra 5 20 frena stop su dosso sinistra 4 diventa inversione sinistra scivola moltissimo per destra 5 100 per destra 5 lunga in sinistra 5 lunga su dosso destra 5 e subito tornante sinistro 50 destra 5 subito tornante sinistro 50 al muro sinistra 5 in destra 5 lunga lunga di tagliare in sinistra 5 20 per ritardo tornante destro apre scivola 50 destra 5 per sinistra 6 più tieni occhio interno 3 più tieni occhio interno in destra 3 per sinistra 4 tieni in destra 3 per no sinistra 4 tieni 20 in no destra 2 sfiora sinistra per tornante sinistro diventa destra 5 diventa destra 5 per sfiora sinistra e destra in sinistra 5 stai al centro destra 5 due volte scivola stai al centro destra 5 due volte scivola 20 sfiora destra per sinistra 5 lunga a rosso chiude 3 lunga a rosso chiude 3 20 tornante destro leva 50 solo con le dita destra 4 20 sfiora destra tieni per sinistra 4 meno tieni in accenno destro e accenno sinistro e destro per sinistra 5 stai a sinistra frena per destra 2 lascia in sinistra 2 tieni per destra 5 lunga sconnessa su dosso no sinistra 4 in no destra 3 tieni 20 alla catena sinistra 4 lunga lunga piena 4 lunga lunga piena sfiora destra 30 per sacrifica sinistra 5 diventa tornante sinistro 50 sconnessi sacrifica sinistra 5 diventa tornante sinistro 50 sconnessi su dosso destra 4 diventa 3 tieni 100 in posta destra 500 diventa 3 tieni 100 ok in posta destra 500 frena no destra 2 20 no destra 2 20 per sinistra 2 in destra 3 più lunga lunga ripeto destra 3 più lunga lunga in sinistra 2 tieni scivola per destra 5 al violo stai a destra sinistra sinistra 5 lunga lunga 5 lunga lunga 20 al palo sinistra 3 per tornante destro 3 al per tornante destro diventa destra 4 lascia sfiora destra al palo sinistra 5 per molta attenzione stai a destra dosso sinistra 50 molto bene luigi in posta destra 5 lunga in accendo sinistra per destra 2 tieni sporco 2 tieni sporco 20 al blu sinistra 3 lascia per entra sinistra 5 piena 50 per destra 3 lascia scivola in staccata 50 per entra sinistra 4 lascia molto sporco ripeto per sinistra 4 lascia molto sporco in destra 3 lascia per sfiora sinistra lascia al rosso diventa sinistra 3 tieni sporco per destra 3 tieni in sinistra 5 vai 50 5 vai 50 per destra 6 lascia alle rocce sfiora rocce per destra 5 tieni in sinistra 5 per sfiora destra e sinistra e destra 50 al rail frena sinistra 2 lascia 2 lascia per sinistra 5 lascia in destra 5 lunga tieni alle rocce sfiora sinistra per destra 5 lascia 150 5 lascia 150 alle rocce sfiora sinistra per sinistra 4 tieni per sinistra 6 50 al cartello sinistra 5 tieni per destra 4 tieni 20 4 tieni 20 entra sinistra 4 lascia 50 per destra 6 lascia 300 vista 6 lascia 300 vista sfiora destra frena stai a sinistra per destra 3 scivola molto ma molto in sinistra 5 lascia per sinistra 5 lascia 20 entra sinistra 4 più lascia 50 per imposta destra 3 tieni sporco in entra sinistra 2 lascia 3 entra sinistra 2 lascia imposta al cartello destra 4 in sinistra 4 lascia frena per inversione destra molto bene al cartello sinistra 4 lunga tieni alla casa destra 4 tieni taglia per sinistra 5 in destra 3 in sinistra 3 più lascia umido 30 destra 5 al cartello tornante sinistro destra 5 al cartello tornante sinistro destra 5 in sinistra 5 sfiora a sinistra frena taglia destra 2 in sinistra 3 in destra 5 lascia frena scivola in staccata tornante destro sconnesso 50 sfiora a sinistra sfiora scusa sinistra 5 sfiora a destra per sinistra 3 più più lascia poco umido al rosso destra 5 lascia 20 per destra 3 corta 50 sfiora a destra 6 in ritardo a sinistra 4 più di 3 umido ai jersey destra 3 taglia per lascia per destra 3 in sinistra 2 per destra 3 ripeto per destra 3 in sinistra 2 gira per ritardo a poco destra 1 lascia 20 ritardo a molto sinistra 1 gira umida per destra 5 lunga tieni in sinistra 5 lascia per sinistra 5 frena al cartello entra a destra 3 più lascia per destra 4 per sinistra 3 lascia alla casa entra a destra 500 vista molta attenzione destra 2 gira lunga la sua che cosa un po' la sua estra 5 l'organizzazione al